cominciate ad amare gli investimenti di lungo periodo e cominciate ad odiare quelli di corto ciao ragazzi benvenuti ho appena concluso un po di investimenti sui vari fondi ogni 20 giorni 15 giorni io metto della sposto della liquidità la prendo da una parte la metto in fondi di investimento perché a me piace ovviamente non lasciare i soldi stagnanti ma i miei soldi sono sempre in movimento su questo poi ne parleremo però ecco prendendo questo esempio estremo i fondi sono chiaramente hanno un orizzonte temporale molto più lungo sento molto spesso parlare di scalping sento molto spesso parlare di intraday molte persone mi chiedono ma perché ma tu ho per intraday e multiday voglio rispondere definitivamente a questa domanda perché è giusto e voi capiate cosa dovete cercare all'inizio della vostra carriera dal trading perché molti dicono ok io voglio operare voglio stare davanti grafici voglio guadagnare ecco già per me questo presupposto è sbagliatissimo meno state davanti grafici più potete guadagnare non è un controsenso non è qualcosa che vuole millantare una vita su una palma sotto una palma su una su un'amaca mentre vi sorseggiate il vostro dink no ma voglio farvi capire che meno tempo passate davanti grafici e meno decisione prendete su i mercati meno danni potete fare più potete guadagnare soprattutto al vostro nel vostro inizio nel vostro nella vostra prima parte di carriera vi dovete paragonare a dei neonati se delle persone ancora non persone ancora non esseri adulti che devono essere protetti il problema è che a differenza di una nato che hanno di insomma potrei essere io il vostro genitore in maniera abbastanza così figurata però siete voi i genitori di voi stessi e dovete prendere le decisioni che vi proteggano e le decisioni che possono assolutamente proteggervi sono che arvi un ecosistema una strategia una filosofia chiamatela come vi pare che vi faccia capire quando entrare al mercato e che vi tolga assolutamente dalla testa la possibilità di essere schiavi del trading il problema principale di coloro che iniziano è quello di avere una giornata che distrugga tutto quello che è accaduto precedentemente perché magari partite con i presupposti migliori studio applico perfettamente quello che studio sono assolutamente preciso nella tabella di marcia che mi sono imposto capita una giornata dove vado in tilt e tutto quello che ho fatto viene azzerato questo è il problema principale di chi inizia e questo problema può essere assolutamente quasi annullato perché non posso dire la totalità l'assoluto ragazzi nel trading dovete assolutamente scordarvelo non posso andare a garantire qualcosa a qualcuno nessuno ve lo può dare chi vi dà garanzie non si perde mai non ci sono rischi avete una performance garantita a fine mese quelle sono truffe ragazzi chiamano truffe ok l'impossibile l'assoluta certezza che voi non troviate una giornata di tilt è impossibile ve la possa dare e appunto perché è impossibile che ve la possa dare bisogna costruire un sistema prova di bomba che vi permetta di non saltare e questo come si può garantire entrando meno volte possibili a mercato raga voi il mercato lo dovete utilizzare quando vi può dare delle occasioni e se non avete piena coscienza di quello che vi può dare il mercato c'è qualcosa che non va nel vostro trading infatti io divido coloro che arrivano e che magari guardano questi video in tre fasce no in tre fasce di diciamo di viewers c'è chi ancora non ha una strategia c'è chi ancora non ha pieno controllo emotivo del proprio trading e c'è chi non ha pieno controllo del proprio denaro ed è importante capire che in entra in tutti e tre i casi siete fritti entrare tante volte a me ogni volta che entrate al mercato ragazzi voi andate a rischiare il vostro capitale e come dicevo poco fa chi vi dice che non si rischia vi sta mentendo anche io ogni volta che entro al mercato rischio il mio capitale perché non so quale sarà l'outcome del trade dell'investimento che sto facendo il lavorare su un orizzonte temporale più lungo non significa però anni e ragazzi significa giorni e attenzione però non significa nemmeno entrare e uscire 5 6 10 20 50 100 volte in una giornata è quello che lavorando su più giorni a potete avere dei target più grandi perché in una giornata avete un oscillazione media di 30 punti di uno strumento su più giorni potreste beccare un movimento molto più lungo e soprattutto gestendolo in più giorni non avete la necessità di stare davanti il grafico 6 ore a guardare il prezzo perché dovete prendere l'occasione che o la prendete in quel momento o siete fritti o non c'è più il setup diventate schiavi il diventare schiavi significa avvicinarsi in maniera esagerata al tilt all'esaurimento all'inizio ragazzi take it easy tranquilli voi facciamo l'esempio di questo mese no perché è giusto Gianluca non è un mese bellissimo quello di aprile ci mancherebbe altro non sto dicendo che è stato il mio mese migliore assolutamente nel frattempo oggi è 23 vediamo sono in live mentre a mezzogiorno mi andranno ad allenare il mercato ok ieri non sono entrato al mercato insomma sta sta come sta lì ecco nemmeno l'ho controllato devo essere sincero mi sono collegato solo per fare questo video insieme a voi allora andiamo a vedere il mio mese di di aprile perché è giusto che voi capiate quello che ma realmente quello che vi sto dicendo perché insomma e allora andiamo a prendere la schermata eccolo qua allora mio mese di aprile andiamo a prenderlo i miei conti sono selezionati gli altri no tutti gli strumenti selezionati eccetera eccetera insomma sono entrato una volta qua dice tre perché ho cliccato tre volte sulla piattaforma la ninja è abbastanza particolare sono entrato una volta e tra l'altro abbiamo documentato insieme questo trade e ho guadagnato 3550 dollari è un mese pazzesco no è un mese è un mesetto ancora non so come andrà a finire anzi tra l'altro ieri sera ho controllato si sta delineando una bella situazione quindi magari nel pomeriggio posso prendere una decisione che mi fa entrare normalmente al mercato quindi posso anche chiudere in negativo non posso sapere come andrà a finire il mese ecco perché dico la certezza ragazzi nessuno ve la può dare quindi non so però la situazione può essere interessante davvero è un mese bello per adesso no un mese sotto la media però è assolutamente la la prova che ho atteso in questi 25 giorni da inizio mese anzi 20 21 perché sono entrato il 21 da inizio mese mi sono dedicato ad altro a qualcosa che mi doveva far guadagnare di più rispetto ai mercati perché ragazzi i mercati dovete capire che sono è un luogo dove potete trovare delle occasioni se le occasioni non ci sono non dovete essere al mercato se no siete schiavi perché cominciate a crearvi voi l'occasione ma voi non avete assolutamente le potenzialità e le risorse per poter creare voi stessi delle occasioni al mercato è il mercato che vi porta di fronte possibili occasioni e poi voi dovete sapere come prenderle e come gestirle e quello è un altro discorso si parla quindi poi lì di strategia di filosofia e di tante altre cose ma se non ci sono delle occasioni raga lasciate perdere date via dedicatevi ad altro soprattutto voi che state guardando questo video molto probabilmente già avete altro dedicatevi a quell'altro e se avete proprio del tempo libero raga godetevelo se no è tutto inutile discorsi sono tutti inutili discorsi che vi fate libertà vi si viva la vita sono tutte minchiate perché poi diventate schiavi come delle slot machine dei mercati però allontanarvi il più possibile dai mercati vi farà guadagnare di più è un controsenso? Assolutamente no perché diminuiremo di tanto la possibilità di andare in tilt di quella giornata dove voi non ci capite più nulla di quella giornata che il giorno successivo alla giornata stessa vi dite ma ieri chi ha tradato? Chi è stato davanti ai gravi? Non ero io, non vi riconoscete allontaniamo soprattutto all'inizio della vostra carriera questa possibilità perché è peccato e perché strutturando in questo modo il trading avrete molti più strumenti per decidere quando entrare, come gestire, sarete molto più lucidi entrare meno volte significa meno pressione, essere pronti in maniera più completa alla gestione poi del trade che arriverà no? cioè un atleta meno volte gareggia più è fresco il giorno in cui deve gareggiare deve fare la performance se io devo gareggiare ogni giorno la mia performance sarà nettamente inferiore se dovessi prendere una media delle mie performance sui 100 metri rispetto a quando gareggio solo 5 volte l'anno è proprio un altro sport per qualità il trading deve essere fatto solo se qualitativamente sono sempre al top ogni volta che entro al mercato ragazzi funziona così non ci sono né se né ma quelli che vedete che fanno scalping entro esco entro esco o sono dei fanfaroni o non hanno nemmeno ancora loro capito cosa può dargli il trading sono qui per dimostrarvi che il trading può essere tanto veramente tanto ma deve essere fatto in un modo che alcune volte può sembrare un controsenso ma quando vi ritroverete davanti i grafici a gestire capirete che è l'unica via per poter far trading